Presso il carcere di Forni nel 2020 sono stati 122 gli atti di autolesionismo, 15 tentativi di suicidio ai quali si deve aggiungere purtroppo la morte del rapper Johnny. È uno dei dati racchiusi nel report sulle criticità dei luoghi di privazione della libertà personale presentato questa mattina presso la sede della Caritas Diocesana di Salerno da Samuele Ciambriello, garante delle persone sottoposte a misure ristrettive nella regione Campania. L'inchiesta si pone l'obiettivo di fotografare la situazione ma anche di proporre come superare la logica di un carcere ridotto, scrive Ciambriello, ad una discarica sociale. Il garante ha ringraziato i vescovi che hanno sottoscritto una lettera per chiedere l'intervento del ministro di Grazie e Giustizia, tesa appunto a migliorare le condizioni dei carcerati, ma chiede anche che si trovino misure alternative alla detenzione come avviene in altri paesi europei. Voglio anche dire però che sono cresciuti in provincia di Salerno durante il periodo della pandemia gli scioperi della fame, i rifiuti dell'assistenza sanitaria, cioè la pandemia ha triplicato già i problemi che ci sono. Spesso uno entra in carcere perché ha commesso un reato e rischia di uscire dal carcere dopo che ha subito un reato dallo Stato o di mala giustizia o di mala sanità. Lei nelle conclusioni e nell'appello che lancia al Vescovo usa una parola forte, dice facciamo quanto possibile per fare in modo che il carcere non sia alla fine una sorta di discarica sociale. Come si fa questo? Intanto io ringrazio pubblicamente i vescovi della Campania che hanno scritto al ministro della giustizia a Cartabia hanno detto noi siamo pronti per i luoghi alternativi al carcere. Allora bisogna istituzionalizzare un po' di più queste esperienze qui a Salerno tra Caritas, alcuni migranti senza frontiera, alcune cooperative sociali. In provincia di Salerno mi auguro sempre di più, per esempio per Eboli che è un carcere a custodia attenuate, ci possono stare esperienze significative. Voglio ricordare che in provincia di Salerno poi abbiamo 2440 persone nell'area penale esterna. Io mi occupo poi anche di tutto il sistema del trattamento sanitario obbligatorio, delle comunità di accoglienza, dell'RSA. Cioè noi abbiamo bisogno in definitiva di luoghi alternativi non solo al carcere, alla detenzione, alla ristrettezza. L'Italia è l'unico paese europeo che è il singolare. Se tu commetti un piccolo grande medio reato, la risposta è il singolare, il carcere.